La città è il fenomeno urbano al centro dell'incontro che si tiene oggi presso l'Università degli Studi di Salerno. Noi siamo in compagnia di Nicola Di Battista, direttore della rivista internazionale di architettura Domus, a cui vogliamo chiedere quali sono gli elementi più importanti che emergeranno oggi dal dibattito. No, la cosa è molto complicata, come puoi immaginare. Se lei mi chiede qual è la cosa più importante, lei rispondo la forma. Ma noi possiamo chiaramente parlare di città da moltissimi punti di vista, ma quello che più interessa il cittadino, le persone, è la forma della città. Chiaramente non parlo di formalismo, ma parlo di forma che rappresentano contenuti, per esempio una forma che rappresenta un'università, soprattutto gli edifici pubblici, una forma che rappresenta un municipio e poi anche le forme che rappresentano le case, le piazze, le strade, che sono i luoghi che noi viviamo. Penso che parlerò di questo.